buongiorno a tutti sono alessio urban e grazie per essere venuti così numerosi a questo nostro webinar sul backup con backup assist desktop oggi parliamo di backup assist e della sua versione per desktop e in particolare vedremo insieme come si installa come si gestisce in modo centralizzato e poi entreremo nel dettaglio delle tante possibilità del backup immagini attraverso la protezione del sistema backup di file attraverso la replica file sia locale che offsite quindi con rsync anche perché è importante usare backup assist desktop per proteggere i laptop e i pc utilizzati per lavoro e sappiamo che nonostante l'impegno e la volontà di tutti noi che operiamo da tanto tempo nell'it ci sono e ci saranno sempre molti file importanti per gli utenti che vengono memorizzati localmente quindi sui pc stessi e la cui perdita può essere davvero dannosa mantenerli al sicuro con la possibilità di recuperarli è prezioso anche economicamente oltre che lavorativamente backup assist desktop permette di fare un backup di file in modo semplice ed efficace e come già saprete dal precedente webinar anche economico inoltre possono esistere situazioni dove la configurazione del desktop o del laptop sia particolarmente critica e difficoltosa magari con driver e programmi particolari a cui si è arrivati dopo diversi mesi di sforzo di cui si è trovata la quadra ecco che poter fare l'immagine completa per stare tranquilli in caso di qualsiasi problematica hardware o software permette a voi soprattutto ai vostri clienti di dormire sereni backup assist desktop permette di fare un backup di un'immagine dei dati dell'intero sistema in modo da conservare la cronologia dei backup su destinazione di rete o usb certo backupare i dati sia con un backup per file che per immagini è fondamentale ma un software di backup senza possibilità di fare restore serve a poco anzi provate a restore almeno una volta ogni sei mesi andrea grande esperto di backup assist ci guiderà attraverso la configurazione del software di backup mostrandoci tutta la flessibilità della configurazione dei vari tipi di backup l'efficacia del ripristino offerta da via desktop e chiuderà parlandoci di come gestire e controllare remotamente le macchine protette da backup assist desktop non vi rubo altro tempo e lascio la parola ad andrea vai andrea grazie grazie per l'introduzione io sono andrea per nice per chi non mi conoscesse sono il tecnico che in ACAP si occupa del support di backup assist oggi parliamo di backup assist desktop lato pratico vediamo subito cosa vi spiegherò allora iniziamo a spiegare perché utilizzare backup assist desktop e non la versione completa vi spiegherò i motivi che possono essere per affrontare il discorso di come vendere il prodotto e anche come proporlo ai clienti poi inquisiti per installare il prodotto i inquisiti tecnici le differenze rispetto alla versione integrale vi farò vedere anche quali sono gli aspetti che bisogna tenere in considerazione quando io devo scegliere se installare la versione desktop o la versione integrale poi faremo un esempio vedremo come fa anche backuparsi desktop per fare il backup remoto backup off site per finire la gestione remota e la reportistica centralizzata che sono due componenti fondamentali per gestire e amministrare e tenere sotto controllo i report perché utilizzare backup assist desktop? domanda perché puntare sui pc? noi diciamo abbiamo già backup assist versione completa perché adesso puntiamo anche sui pc? il motivo è semplicissimo perché ormai si sa che i dati fondamentali di un'azienda non sono sono sui server, non sono localizzati a livello di server centrali ma sono sparsi anche sui desktop, sui pc, sui laptop e quindi per un'azienda diventa fondamentale avere anche un controllo, una gestione dei backup a livello di desktop poi si creano sempre più esigenze per gestire anche e adattare il backup all'utente quindi non tutti hanno i server, non tutti hanno un controllo, un monitoraggio remoto tutti non hanno tutti questi componenti e hanno necessità di avere un desktop e anche una destinazione per il backup backup assist desktop cerca di agevolare la flessibilità e la personalizzazione del backup a livello di ogni singola postazione quindi come già ho accennato la destinazione anche questo è un elemento fondamentale già sappiamo che backup assist può integrarsi con molti dispositivi può scegliere in base al tipo di backup anche il dispositivo diverso quindi per ogni job io posso fare una gestione del backup sulla destinazione e più anche la parte di riportistica quindi avere un backup assist installato sul desktop posso avere una riportistica dettagliata sulla situazione dei suoi backup e le sue cartelle posso farla gestire e farla vedere al cliente in più anche la parte di riportistica oggi vogliamo avere un backup assist installato sulla macchina e possiamo dare il controllo all'utente per il riporto nei suoi dati il backup assist ha una console di riporto integrata direttamente nella sua console vedremo anche questo dettaglio una cosa non da poco nella versione 9.3 hanno introdotto anche la ricerca io finora avevo la possibilità di avere i backup gestiti centralmente ma non potevo cercare il contenuto fare una ricerca all'interno dei miei backup questa è una limitazione nella versione 9.3 backup assist ha introdotto anche la ricerca quindi io posso ricercare all'interno di tutti i miei backup e mi restituisci direttamente quali sono i job che hanno eseguito il backup il giorno e posso fare una ricerca all'interno di ogni singolo job vediamo adesso i requisiti ovviamente backup assist desktop non si può installare su un server questa è la premessa quindi non si può ottimizzare i costi installando backup assist desktop sui server questa è una cosa fondamentale vi risponderò anche il motivo perché non oltre a non potersi fare non si può installare però la versione desktop ha dei requisiti diversi vediamo il supporto di desktop in questo caso di sistemi Windows è coperto dalla versione 7 di Windows la versione Pro Enterprise Ultimate la versione Windows 8 8.1 Pro Enterprise sia 32 che 64 bit per Windows 8 è solo 64 per Windows 10 invece il supporto è garantito sia per 32 che 64 bit della versione Pro e della versione Enterprise altro dettaglio portante sono i dispositivi supportati qui ho un elenco in particolare l'unità RDX quindi dischi rimovibili dischi fissi esterni unità NAS NAS ai scasi share di rete quindi NAS normali poi i supporti CD e DVD ovviamente anche chiavette vediamo adesso le differenze rispetto alla versione integrale questa tabella rappresenta una sintesi di tutto quello che è la versione base la versione completa integrale e la versione desktop si vede che sono ovviamente più sì che no quindi in realtà cos'è che perde backup assist desktop non può fare backup di file remoti quindi solo file locali sia per la parte di protezione file che per l'archiviazione quindi quando io voglio spare il contenuto dei miei file la protezione del sistema è coperta completamente il supporto WSS quindi quello che si parla di gestione dei file aperti è presente in backup assist desktop però non copra le applicazioni quindi quando si parla di applicazioni vuol dire che sulla macchina è installato un servizio quindi è installato un'applicazione che si integra col supporto WSS di Microsoft che permette di preservare anche la coerenza dei dati di questa applicazione nella versione desktop questa non c'è perché tutela del desktop vale solo per la gestione file e ovviamente di tutto il disco il volume il backup dell'immagine ma non per le applicazioni gestione remota quindi c'è rsync la differenza è che in backup assist con la versione completa c'è una donna a parte o una donna o una licenza solo per rsync in backup assist desktop ci sono due tipi di licenza la versione standard quindi la versione desktop normale e desktop con rsync quindi possiamo usare anche per fare il backup remoti offsite dei miei file direi che tutto il resto del data container bitlock il criptaggio dei file è presente lo schedule avanzato è presente il ripristino anche il supporto exchange non è presente la SQL server restore neanche il supporto IPv non è presente nella versione desktop è possibile però integrarlo con la BAM il multisite manager support che è la gestione a gestire in remoto le mie installazioni idem per la CMC è supportata vediamo poi in dettaglio questi due punti nella parte finale comunque adesso non ci soffermiamo quindi la versione desktop non ha addon ha solo due tipologie di licenze questo è fondamentale quindi quando comprate licenze potete comprare tagli da 1 5 20 backup da copertura per un anno o due anni ma avete solo due tipologie di licenze ovviamente sono supportate tutte le stesse identiche destinazioni sia per la versione standard completa integrale che la versione desktop ovviamente ho creato anche una parte di attivo al backup remoto è una funzionalità molto prezioso perché adesso con tutti i pericoli che incorre un desktop è meglio portare fuori i dati dall'azienda quindi sia il furto sia il fatto che io devo essere in mobilità sia il fatto che posso backup un virus che criptovi dati avere una possibilità di fare backup sia locale che remota è fondamentale quindi possiamo replicare i dati su NAS quindi avere un NAS che ha la funzionalità RSync oppure spedire i dati in cloud usando sia RSync standard sia è capace anche la parte integrata di gestione del S3 RSync che è un provider che usa lo spazio su Amazon comunque è sempre una versione RSync personalizzata però vediamo i benefici il RSync è un protocollo che consente di ottimizzare la banda quindi possiamo decidere quanta banda qui in alto vedete che esiste un controllo per controllare quant'è il transfer rate dei miei dati verso il server o limitare quanto spazio dedicare quanta banda utilizzare quanti dati trasferire verso il server remoto mettendo dei limiti in questo caso abbiamo anche il fatto che la connessione RSync può essere criptata quindi usando la modalità RSync over SSH possiamo criptare il canale di comunicazione e andare sul server senza usare una VPN quindi accedere direttamente in modalità sicura questo ovviamente tutti i NAS ormai supportano l'SSH lo supportano attivamente in cloud posso trovare soluzioni già predisposte ci sono anche server virtuali o distribuzioni che permettono di distribuzione Linux o di FreeBSD che permettono di creare dei NAS virtuali quindi in questo caso l'ottica di vendita è proporre anche al cliente lo spazio all'hosting RSync per fornire una via di fuga dei dati per salvarli e proteggerli all'interno di una web farm oppure di un servizio in cloud usando un hosting RSync in questo caso vi farò vedere poi negli esempi pratici che è possibile creare facilmente anche un NAS virtuale usando FreeNAS open file con minime risorse vediamo adesso la parte pratica vi faccio vedere come si installa la backup assist desktop vi faccio vedere le tipologie di backup vediamo un po' la console la parte di ripristino e vi parlerò anche di recovery assist e per finire la parte di backup remoto usciamo un attimo dalla slide la parte di installazione ovviamente il backup assist desktop non ha un setup separato quindi noi abbiamo separato nel nostro sito la parte di desktop della versione integrale la versione completa di backup assist però il setup è uno solo quindi non c'è possibilità di sbagliarsi una cosa importante backup assist desktop il setup è solo in italiano non esiste la versione desktop in inglese setup il pacchetto di setup occupa intorno di 109 megabyte questa macchina di test parte da installare da zero non ha nessun'altra versione di backup assist vi farò vedere poi anche come si fa a rimuovere correttamente perché l'importante è non partire da una stazione sporca quindi avere già installato versioni precedenti backup assist io parto dall'ultima versione al 9.3 poi vi farò vedere dove finiscono i dati la configurazione e anche la catra installazione e vi faccio vedere anche come si fa a rimuovere pulendo perfettamente eventualmente un'installazione di backup assist precedentemente installata partiamo con setup quindi procedura molto semplice due tre passaggi e abbiamo già il prodotto installato vediamo un attimo installazione ovviamente come pacchetto installazione esiste anche il pacchetto MSI per fare l'installazione remota quindi installarlo remotamente e anche una versione che completa nel senso che incorpora anche eventuali librerie che servono una versione diciamo così tutto incluso la versione che installo io richiederebbe se almeno il supporto .net installato sul sistema ma può essere già o mai incluso in tutti i sistemi windows eventualmente se in fase di selezione trovo che manca qualcosa lo chiede di installarlo il pacchetto che è possibile recuperare è quella versione non-net che permette di installarlo quando non c'è l'accesso internet per scaricare questi componenti aggiuntivi quindi scaricate questo pacchetto che non sarà da 109 ma sarà molto più grande e ingloba anche le librerie che servono la parte .net vi andiamo avanti accetto la licenza mi chiede il percorso di installazione ovviamente è un programma a 32 bit e quindi viene installato una cartella program files x86 installiamo fino a qui non ci sono differenze rispetto alla versione classica di backup assist perché il setup è uno solo solo che nell'ultima versione la 9.2 in avanti è il diritto più grande perché hanno dovuto adattarlo a situazioni desktop e versione server e versione si impiega un po più del previsto vediamo se c'è qualcosa che carica la macchina diretta allora mi sa che sono partiti gli aggiornamenti di Windows mi dice che è completata vediamo è bello anche vedere le situazioni di installo no, ha rimosso direttamente tutto riprocediamo grazie grazie avanti ok ha recepito e qui partiamo direttamente con l'interfaccia la console di backup assist piccolo imprevisto però siamo usciti quindi c'è un qualche processo che è stato bloccato dal sistema Windows 10 o c'è un genere di attività in corso questa è la console di backup assist una volta installata ovviamente quando parte il prodotto fa vedere la guida parte in unità completa quindi il setup dato che è un unico setup quando installo mi fa vedere ovviamente la versione completa quello che permette di vedere e valutare la parte diciamo desktop è nel menu guida cambia esperienza di prova e in questo caso lui mi propone le due scelte la versione prova con tutte le funzioni e la versione desktop con le funzionalità per la funzione funzionalità desktop mi fa riavviare l'interfaccia e parte con lo splash con lo splash di vedere la versione desktop e qui posso vedere che qui non cambia nulla ovviamente posso vedere installata la versione desktop la versione personalità per ACAB la gestione licenza in questo caso c'è una sola licenza invece quando la versione è completa posso scegliere di aggiungere sia la licenza base che i vari add-on quindi posso fare l'attivazione e inserire la chiave invece fuori la mascherina e inserire la chiave in questa modalità sta lavorando in molto attraia lo vedete che il postantino qui giallo acquisto in linea è il fatto che c'è indicato la versione in prova per scadenza tra 30 giorni per vista anche un'attivazione manuale in caso ci sono problemi di connessione a internet adesso vediamo ovviamente la parte di interfaccia fino a qui è comune a tutte le due versioni vediamo adesso come come viene gestito il backup ovviamente questa è una parte diciamo nella home io ho ZRCTAB backup ripristino recupera remoto nella parte di backup io posso crearmi i job di backup per proteggermi i file nella parte di ripristino recupero il contenuto dei file e in parte di recupero è quando devo fare un ripristino di tutta la macchina vediamo i tipi di backup vogliamo proporre tre possibilità la protezione di sistema quindi faccio il backup del mio disco per proteggere il sistema in caso di disaster recovery quindi posso fare sia il backup per disaster recovery o anche un backup dell'immagine del disco perché voglio ottenere l'immagine con tutta la struttura dei file per poterla anche eventualmente sfogliare ma esiste anche la protezione file quindi posso fare una replica delle cartelle quindi sincronizzare cartelle locali con la destinazione e poi l'archiviazione file posso applicare posso creare degli archivi zip per comprimere i file e tenerli archiviati vi faccio vedere per esempio l'esempio di configurazione di un job in protezione sistema ovviamente mi chiede in quale utente io eseguerò il backup quindi backup asset ovviamente gira come servizio non vi ho fatto vedere ma esistono due servizi Z backup asset update service e Z backup asset service questo qua è il motore di backup asset questo qui è quello che gestisce gli eventi degli aggiornamenti le notifiche quindi abbiamo due servizi che possiamo definire che è il motore questa qui è la console e quindi sul desktop viene sempre salvato sul desktop ovviamente se si installa come amministratore verrà installato sul lato sul desktop e l'amministratore li concina le console di backup asset comunque è possibile anche avviarla dalla cartella esiste il file eseguibile per aprire la console andiamo avanti con il setup con la configurazione del job decide di fare un backup usando l'utente locale in system local system e qui vedo la struttura la diciamo cosa devo backupare nella versione completa io potevo decidere potevo scegliere file e applicazioni qua posso scegliere il solo file vi faccio vedere anche la differenza fondamentale nella versione completa una struttura mostrata fare le applicazioni compare sia la lista dei dischi ma anche le applicazioni in questo caso vedete non so eventuali backup database sharepoint applicazioni microsoft il supporto uss o l'applicazione exchange questa è la differenza oltre l'altra differenza fondamentale è il fatto che io non posso selezionare dischi remoti quindi non posso agganciare dischi esterni per fare creare la sorgente in backup remota quindi i file sono solo locali in questo caso mi mostra solo il disco locale eventualmente fare il calcolo della stima della dimensione adesso vi faccio vedere solo così rapidamente poi vi fa vedere la destinazione la tipologia di destinazione in base al tipo di backup quindi la processione del sistema mi chiederà un disco esterno che fa un backup di tutto un volume mi propone prima di tutto il disco da backupare e se voglio fare un backup bar metal quindi me lo indica chiaramente che il volume critico qual è da salvare il disco C poi mi fa anche la stima della dimensione proseguendo vado avanti per fare un backup di tipo bar metal quindi che posso poi avviare con il disco di ripristino e fare un ripristino completo di tutta la macchina quindi un backup per disaster recovery posso scegliere un disco esterno quindi un disco USB un disco SATA di ripristino unità rdx rimovibile un disco locale un percorso di rete unità ai scasi quindi un disco remoto eventualmente posso anche scegliere il tipo di salvare direttamente la cartella data che BackupAsset usa Windows Backup quindi il motore di Microsoft si può decidere di salvarla dentro un contenitore diciamo per agevolare alcuni tipi di backup quindi backup di rete che potrebbero avere degli ostacoli a usare il formato nativo di Windows Backup quindi nel caso backup di rete oppure anche unità rdx che si può fare il backup su unità rdx però ha delle limitazioni con Windows Backup perché nel caso di se io lancio e decido di fare il backup direttamente su una di questa designazione mi dice che non permette di fare il backup incrementale mi fa solo un backup full del sistema e mi perde le informazioni storiche usando il contenitore dati io posso decidere di incapsulare il mio backup dentro un VHD un VHD X proseguiamo facciamo vedere anche altri tipi di backup potenzione file quindi in questo caso mi chiedi sempre l'utente di backup posso scegliere ovviamente solo cartelle locali in questo caso la protezione file è una replica di file quindi replicare una cartella da una sorgente locale a una destinazione remota quindi posso scegliere la mia cartella con tutta la struttura con tutta la struttura con tutta la struttura qui a destra vedo la struttura in questo caso in questo caso il backup ha diverse tipologie di scheduling in base a come voglio strutturare poi la destinazione se fare una rotazione giornaliera settimanale mensile e poi eventualmente anche fare semplicemente un backup manuale dove io salvo la mia cartella la salvo lì e lo lancio manualmente e poi qui mi scegliere il percorso l'unità che scelgo per il backup vediamo anche la parte di archivazione file anche qui l'utente in questo caso archivio file vuol dire che faccio lo zip di una cartella anche qua la situazione è medesima seleziono la cartella locale mi fa la stima della dimensione vediamo qualcun altro questo qua scelgo in questo caso vedo che c'è una differenza ho anche la possibilità di scegliere un disco un disco da mestilizzare quindi un cd in blu-ray e anche un'unità flash come destinazione invece nella replica file non avevo questa possibilità di scelta la cartella locale percorso che avete e i scasi sempre presente qui c'è anche la possibilità di criptare lo zip e anche qui lo scheduling stesso tipo di scheduling la differenza forse fondamentale di un backup su zip che posso fare un backup differenziale completo differenziale incrementale incrementale questo posso una volta che mi credo posso visualizzare poi nella struttura del calendario cosa faccio ogni giorno della settimana se fa un backup full un backup incrementale o differenziale questa è la parte di backup mi sposto un attimo su allora qui possiamo anche chiudere ecco prima di vi faccio vedere una cosa fondamentale dovrebbe backup assist a salvare la configurazione prima di tutto questo servirà per chi deve fare assistenza sul prodotto e questa è la cosa fondamentale backup assist salva tutto dentro un'unica cartella la configurazione si trova in c program data questa cartella questo percorso c'è una cartella backup assist v9 che è la cartella che contiene tutta la configurazione diciamo che backup assist ha due modalità di esportazione della configurazione una presente nella console che mi fa vedere un'esportazione su zip che però non è un'esportazione completa è solo parziale perché non salva la riportistica perché se io lascio già backuparsi per mesi 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 accumula informazioni che possono essere molto pesanti da tenere come backup della configurazione invece nel menu file esporta salva solo la struttura di base del programma della configurazione quindi i job fatti la configurazione degli utenti dell'utente di backup tutte le proprietà che servono di partire da zero ma meno avere la configurazione di backup assist base invece qua dentro io salvo questa cartella ho tutta la configurazione perché dentro ci sono anche i job i report quindi la reportistica inviata e anche eventuali log quindi se io voglio ripartire da zero mi faccio il backup di questa cartella e posso avere un ripristino completo basta ripristinare la cartella quindi partendo da zero ripristino la cartella in c program data e poi sovra installo la stessa identica versione ovviamente la cartella in c program dove sono presenti tutti gli eseguibili eventualmente potrei anche fare un avvio manuale di alcune funzionalità tipo il insomma il componente una cosa che può essere utile in caso che io non riesco più la console ma devo mandare il diagnostico esiste il componente uneseguibile vediamo sotto dove è dove è dove è ecco diagnostic questo è l'eseguibile che lancia sempre presente anche nella interfaccia del menu guida punto di domanda c'è anche la feedback e supporto per gestire l'inolto della diagnostica del prodotto in caso di problemi conta support compila un indirizzo l'oggetto il messaggio e lo vando in questo caso arriva la mail direttamente a noi ma anche il supporto di backup assist questo è il nostro canale di comunicazione tra voi i venditori e noi distributori ecco se devo fare una pulizia completa di una macchina prima di installare il prodotto consiglio di fare una cosa verificare avvenuto che il programma sia disinstallato quindi dal pannello controllo vado in gestione programmi lo rimuovo quindi presente backup assist v9 poi una volta rimosso controllo che la cartella in c program data ci sia non ci sia più se c'è rimuovo in c programmi anche lì deve essere rimossa e se voglio essere proprio pignolo controllo col regedit se sono presenti altre chiavi e la chiave sicuramente da rimuovere per partire da zero quindi ad essere accettata per avere l'installazione pulita è in hk local machine software cortex it questa cartella contiene le chiavi di installazione se io voglio partire da zero cancello questa cartellina cortex.it e parto effettivamente da zero mi scollego da questa sessione vi faccio vedere intanto anche un'altra cosa il backup con rsync come si fa un configurare un job per la replica offsite in questo caso in questo caso io ho preparato su una macchina virtuale un NAS virtuale ho usato FreeNAS vi faccio vedere un'instituzione che ho fatto per fare una presentazione ho già usato un'altra presentazione però FreeNAS è quella che condensa tutti i servizi possibili immaginabili quindi se io voglio fare una demo va bene ma posso anche mettere in produzione una macchina virtuale che faccia da storage di tutto una rete oppure metterla in cloud e virtualizzarla vedo che ho tantissimi servizi posso implementare anche dischi escasi condivisioni windows ma anche la parte rsync il supporto SSH è presente ha molte funzionalità utili per chi vuole implementare un servizio diciamo così fornire spazio remoto o anche spazio in azienda per fare il backup usando una macchina virtuale in questo caso vi faccio vedere l'eversync si appoggia direttamente a questa installazione di FreeNAS la designazione io ho scelto la modalità più sicura di comunicazione con l'eversync usando rsync over ssh via ssh la porta di default è 22 specifico il percorso doveva salvare i dati eventualmente nel dubbio qua dice di utilizzare tilde prendi che diciamo la home del backup doveva finire la radice del backup slash mi trovo direttamente il percorso di designazione poi l'utente di autenticazione perché la fase di accesso all'eversync cioè la fase di accesso al servizio ssh deve essere autenticare e scambiare la chiave di criptazione la chiave pubblica e qui c'è una fase di registrazione dove il client comunica con un server mi autentico con login e password e poi salva lui client sul server la chiave pubblica c'è un file che contiene la captazione della la chiave di captazione quella pubblica eventualmente io posso fare anche un backup iniziale che serve per fare se io devo portare tantissimi dati da locale verso il remoto è meglio farlo non subito la prima sincronizzazione ma è possibile esportare un disco quindi portare su una cartella locale per un discorso B il contenuto già sincronizzato quindi la cartella come è deve essere salvata poi sul server di destinazione io faccio una che si chiama backup iniziale preparo il backup prima lo porto eventualmente sulla macchina di destinazione o mi metto nelle condizioni di spedire lo più velocemente possibile sulla destinazione e poi lo diverso sulla cartella di destinazione vi faccio vedere anche una cosa utile una volta che io ho attivato un servizio di questo tipo R-Sync in SSH posso anche sfogliarlo usando altri programmi tipo WinSCP posso sfogliare il NAS accedere e consultarlo come fosse un file system normale questi qui sono i miei dati presenti sul server posso sfogliarlo come se fosse un disco e fare eventualmente controllare il contenuto del backup un programma gratuito che può essere sempre utile a un tecnico che vuole accedere direttamente al lato server di R-Sync proseguiamo con la presentazione vi vado a vedere come si installa e ho visto che comunque il programma è semplice con una console facilitata io posso facilmente creare un backup e creare il mio job di backup in pochi step creo il mio backup senza dover studiarmi tanti manuali e la configurazione è molto semplice la console di ripristino è integrata però non mi ha fatto vedere giustamente ritorniamo subito sulla console ecco la parte di ripristino vi faccio vedere subito è integrata nella console file locali io ho fatto il backup remoti o locali o sulla destinazione backuparsi ha conservato un catalogo di tutti i file salvati io posso direttamente accedere alla console di ripristino e controllare cosa c'è lui mi propone subito tutti i backup disponibili sui miei vari job in questo caso ho fatto diverse prove ho anche un backup su rsync e anche backup su zip il mio propone tutto me lo ordina anche per data vi fa vedere i backup gli ultimi 30 giorni tutti quanti la cosa molto utile è la possibilità di cercare il contenuto dei backup quindi io posso cercare direttamente una stringa di un nome file e posso mettere direttamente il mio nome e mi tira fuori facendo una ricerca che ho salvato su una certa destinazione quindi su un certo job backup applicazioni ho questo nome file presente in uno dei miei backup quindi posso fare anche un ripristino seleziono mi apre una console solo per ripristino e mi fa vedere ovviamente la situazione del giorno 29 aprile 19 23 con la mia statura del disco con tutti i miei con le mie cartelle con tutti i miei dati che ho backupato e poi posso scegliere di specificare il percorso di destinazione di ripristinare un singolo file una singola cartella se sovrapporre il file oppure cambiare ovviamente posso ripristinare uno stesso percorso oppure cambiare la destinazione del mio file e poi lancio ripristina e lui inizia a farmi la parte di ripristino completa con un tanto di report finale tanto che sono qua vi faccio vedere anche la reportistica di backup assist vedete c'è anche la reportistica di ripristino questa qui è la parte di ripristino e il report che ho quindi backup assist fa anche una reportistica nei tentativi quando io faccio una ripristina dei dati se torno su backup posso vedere anche il report di backup molto dettagliati lo spazio occupato sulla destinazione i file copiati numero di file la dimensione dei dati backupati la parte di recupero invece ripristino bar metal ho citato recover assist recover assist è il supporto di ripristino che mi permette di creare con una procedura guidata un cd o un supporto per fare un ripristino completo del mio sistema quindi mi permette di con una fase guidata di fare un backup un'immagine del disco usando ovviamente la soluzione microsoft quindi l'immagine è in realtà un miglioramento del supporto di ripristino di microsoft e quindi aggiunge anche funzionalità a questo supporto mi permette di fare un cd un recovery assist un supporto di ripristino usando la pressione installata quindi prendendo direttamente i componenti del sistema stesso oppure mi crea il supporto partendo dall'immagine del disco di ripristino di microsoft quindi prendendo quali sono i componenti per fare un ripristino del sistema operativo che si sta utilizzando quindi seguirà una procedura che io ho già mostrato anche in un altro webinar di creazione del supporto che mi chiederà anche dove se io voglio personalizzare mi posso mettere una cartella con tutti i driver che mi possono servire perché ovviamente il supporto partirà a boot cercare di montare i vari componenti del sistema però se non ha un supporto driver integrato con windows il dispositivo bisogna aggiungerlo al supporto di ripristino quindi il recovery assist permette di creare una cartella dove può salvare i driver eventualmente anche altri file che mi possono servire in fase di boot una volta che ho fatto il boot io posso anche accedere a una console e fare un'attività di troubleshooting oppure di tentativo di ripristino del sistema oppure di recupero del disco possono eventualmente anche aggiungere dei componenti che posso usare come applicazione comunque su uno sito troverete anche il webinar che ho tenuto mesi fa sul ripristino backup e ripristino di un sistema con varie tecniche di ripristino bar metal di backup assist c'è anche la possibilità di fare un ripristino usando hardware differente diciamo che anche questo è citato nei precedenti webinar l'ultima cosa la gestione remota in questo caso io posso integrare backup assist desktop a una console di amministrazione che si chiama BAM oppure agganciarla a un al servizio di monitoraggio che si chiama CMC una console di monitoraggio dove vengono salvati tutti i report quindi ho una gestione remota amministrativa e una console questa qui è una console che però è un servizio in cloud CMC è un servizio in cloud che permette a chi vende il prodotto che ha almeno cinque installazioni di backup assist mantenute attive con licenza di avere un servizio dove vengono salvate tutta la parte di reportistica e permette di fare un monitoraggio degli allarmi dei backup e tenere tutto sotto controllo da un'unica console di monitoraggio vediamo qui possiamo anche ridurre vi ho fatto vedere praticamente tutta brevemente anche velocemente tutti i passaggi vi ho fatto vedere come sono ovviamente la parte di report vi ho fatto vedere recover assist e la replica di file in cloud proseguiamo quello che ci tenevo a mostrarvi è anche la parte di gestione remota vi ho fatto vedere velocemente la parte di com'è integrata nella console da questa parte backup assist desktop si può anche amministrare remotamente rispetto alla versione completa ha un approccio diverso nel senso che la struttura che vedete qua l'utente si collega alla BAM e poi multi site i site controlli sono le installazioni di backup assist complete che hanno fanno da nudo di comunicazione verso la BAM quindi site controlli qui a destra si collega alla BAM questa site controlli non può essere una versione desktop perché è solo diciamo sono le foglie di questa struttura a livello amministrativo io posso installare su una rete o un server installo backup assist versione completa perché devo fare il backup dell'applicazione ma posso usarlo come nodo centrale per la comunicazione con la mia console centrale invece tutte le macchine della rete quindi i vari desktop sono connesse al site controller che fa da intermediario quindi c'è una fase di registrazione della versione backup assist desktop verso il site controller se io ovviamente voglio fare servizio di rivendita di backup assist desktop potrei anche dire al cliente che non deve proprio comprare un backup assist completo per fare solo il site controller potrei gestirlo il site controller non sul lato del cliente ma in una macchina che io tengo raggiungibile quindi potrebbe essere anche la macchina BAM quindi la macchina che fa dal nodo centrale della BAM oppure una macchina che io ho raggiungibile con un IP pubblico raggiungebile all'esterno e usarlo come nodo di accesso di controllo per questa versione solo desktop vi farò vedere dopo la soluzione che ho dato io quindi ho installato sulla macchina il server il BAM il prodotto BAM che è un prodotto a pagamento e il nodo centrale dell'amministrazione e diciamo così il software che gestisce è la gestione remota di backup assist questo è un si compra il prodotto ha una licenza con sottoscrizione annuale però serve per gestire tutta la mia rete di backup assist vi faccio vedere proseguiamo con le con le slide la gestione remota di backup assist vedisco il fatto che la backup assist desktop si può collegare alla BAM ma non può farlo direttamente ma deve usare un site quindi deve passare attraverso un'altra installazione di backup assist che fa da nodo di comunicazione quindi richiede almeno un'installazione di backup assist integrale posso accedere con il servizio BAM quindi accedendo alla BAM via web a questo servizio di amministrazione io posso vedere tutte le mie installazioni di backup assist remote e posso accedere direttamente alla console di ogni singola installazione se c'è una comunicazione ovviamente la comunicazione verso la BAM è solo da client quindi installazione di backup assist verso la BAM non ci sarà mai necessità di aprire porte da internet verso l'interno perché sia con la versione completa che sulla versione desktop è l'installazione di backup assist che si tiene collegato con il server BAM una condizione fondamentale è che tutte le installazioni collegate alla BAM devono essere coperte da upgrade protection quindi la licenza deve essere sotto copertura di un anno di licenza valida deve essere attivata una licenza e mantenuta attiva con upgrade protection questa è la condizione fondamentale per usare il prodotto vi parlo anche della CMC la console centralizzata per il monitoraggio permette in questo caso backup assist desktop si può registrare quindi quando io faccio vedere poi come si fa registrare ogni installazione può registrarsi a questo servizio che ha almeno 5 installazioni di backup assist mantenute valide accede in modo gratuito a questo servizio è un servizio in cloud noi vi forniamo direttamente login e password e il nostro servizio può accedere a un servizio web dove può vedere lo stato dei suoi backup da un'unica console via web con lo stato di report se è positivo il backup è andato bene o no i vari allarmi se ci sono stati problemi di backup tutto direttamente da una console web quello che manca nella CMC ovviamente è la possibilità di amministrare però serve più che altro per avere una postazione di controllo e per visionare tutti i backup lo stato di tutti i backup e tutti i report dei backup stessi requisiti della versione integrale perché ovviamente la console CMC non fa differenza tra desktop o versione integrale tutte vengono registrate con il nome del cliente o dell'installazione e io posso visionare direttamente le mie installazioni faccio vedere prima di tutto la BAM come un servizio web multi-site perché mi fa vedere tutti i site quindi tutte le varie installazioni di backup assist il lato site quindi io mi autentico a questo servizio via web devo registrare prima di tutto le mie installazioni alla BAM e per farlo entro in gestione remota quindi nel tab remoto configurazione remota mi chiede ovviamente se ho una versione desktop posso far solo ruolo di backup assist normale se invece ho una versione completa posso anche registrarmi come site backup assist desktop funziona solo come backup assist normale quindi devo avere un site controller per fare da intermediario proseguo registrazione site controller mi chiede mi fa vedere se sono già agganciato in questo caso mi chiede di aggiungere un site controller specifico l'ip della macchina dove c'è il server BAM la porta dove c'è la mia inserazione di site la porta che è la 8464 posso collegare in unità sicura e poi metto anche il numero del pc che mi devo collegare vi faccio vedere questa operazione direttamente da questa macchina che è un remoto ricezione normale questo che non serve ok mi controllo mi aggancio ai site controller potrebbe essere una rete locale come in questo caso 192, 168 167 la porta standard è 8464 uso la connessione sicura qui metto il nome della mia macchina che voglio gestire con la BAM Windows 10 qui ovviamente mi dice l'errore di connessione ma in realtà è perché sto usando un certificato che non è quello completo ma è solo fatto per fare un test, ignoro l'errore e questa è la fase di aggancio, registrazione in questo caso la backup assist desktop è collegato al site controller che è una macchina di backup assist completa chiudo ok ritorno qui posso anche sganciarmi disconnetti disconnetti qui ho un'errore di backup assist la BAM mi mostra tutti i site il site controller a cui ho agganciato la mia macchina è via server BAM cliccandoci solo due volte vedo le macchine connesse adesso faccio aggiornamento e vedo già questa VM class 2 e la mia macchina desktop questa qua è la mia macchina desktop questa qua era un test precedente questa qui è la mia installazione di backup assist vi faccio vedere così un giro veloce della configurazione della BAM qui posso vedere tutte le installazioni dei miei site controller i vari report sullo stato se sono presenti una certa installazione di backup assist la versione e le licenze in uso io ho già tenuto un webinar su questo argomento quindi per i dettagli potete vedere questo webinar mi fa vedere anche tutte le installazioni presenti eventualmente con le licenze in uso e posso fare anche una gestione delle licenze da remoto quello che forse interessa di più è la possibilità di gestire da remoto la macchina io su ogni installazione quindi entrando nel site cliccando su una macchina posso fare una gestione tipo posso vedere il contenuto dei backup quindi posso vedere lo stato dei job in quella macchina faccio accedere al computer posso vedere i job presenti e se l'esito dell'ultimo backup eventualmente posso lanciare direttamente qua il backup e visualizzare il report quindi mi fa vedere il report cliccando posso aprirne il contenuto remotamente ma la cosa interessante ritornando al computer su una macchina remota posso fare anche vedere la console quindi accedo accedo remotamente avvia sessione remota lui cosa fa? apri direttamente una sessione terminal desktop verso la macchina remota mi devo autenticare con l'utente metto l'utente remoto e tra qualche secondo mi chiede di autenticarmi mi vedo la console remota di quell'installazione backup assist desktop questo perché il client si collega al server BAM anche si collega al site control e poi si collega al site control e si collega alla BAM che fa prima una sessione terminal e quindi ho direttamente il desktop anzi non il desktop completo ma direttamente la console di backup assist di un ambiente windows 10 quindi se vedete questa non è la console locale ma è la console remota chiudiamo lo indica il nome della macchina remota chiudiamo qua ritorniamo ai nostri slide quindi sentovi vi farò vedere che backup assist desktop si può anche gestire remotamente io posso crearmi una mia struttura quindi rivendere licenze desktop ai clienti quindi posso comprare anche pacchetti da 5-20 licenze ma posso poi gestirle tutte da un'unica postazione o usando il brutto BAM il brutto pagamento però vi agevole nella gestione di questo servizio gestire le varie installazioni di backup assist nei vari clienti quindi ho un unico centro di controllo delle amministrazioni di backup assist sia da desktop che integrali e posso con un'unica pagina web vedere tutta la situazione del fare anche non fate vedere ma possibilità anche di installarlo remotamente inserire licenze aggiornare licenze tutto da un'unica console in più il prodotto BAM genera anche un report complessivo della situazione di tutta l'amministrazione posso accedere direttamente alla console per farlo ovviamente devo accedere al desktop remoto dell'utente quindi bisogna stare attenti che io quando accedo remotamente devo avere il consenso dell'utente se non è collegato posso entrarci senza problemi se non c'è nessuna sessione aperta entro direttamente e vedo la mia console remota posso vedere gestire le attivazioni e disattivazioni le licenze quindi posso amministrare anche la parte di licenze ok quindi questa è la parte di rappresentazione tecnica adesso passo della parola ad Alessio che è per la sessione di domande vediamo un po' bene grazie Andrea nel frattempo che diciamo partiamo con la sessione di domande quindi in sostanza riassumendo tutto il webinar abbiamo visto nei dettagli sia come fare i vari tipi di backup quindi per file o per immagine come fare il restore la gestione remota attraverso BAM e la reportistica attraverso CMC riguardo a questo ci sono già tre domande che iniziamo a affrontare la prima è di Fabio che chiede un backup eseguito con backup assist può essere ripristinato con Windows backup allora il supporto di backup si usa Windows backup quindi si può ripristinare se io ho fatto un'immagine del disco su un disco esterno vedo una cartella Windows backup quindi anche questa si può ripristinare usando anzi nella stessa modalità posso fare sia con backup assist con il console di riprisa ma anche con Windows backup stesso diciamo nessuno niente mi vieto di farlo l'unica cosa che potrebbe essere il discorso del quando io incapsulo il backup dentro il VHDX usando il data container quello ovviamente backup assist lo genera per superare i limiti di Windows backup eventualmente io prima monto il VHD se ho la destinazione ho messo il mio VHD remoto che contiene poi dentro la cartella Windows backup devo montarlo come disco virtuale con gestione disco mi faccio vedere il disco remoto e poi posso usare anche Windows backup ovviamente è meglio usare la console di ripristinare è molto più semplice ok grazie poi Alberto credo che si riferisca alla ricerca dentro i backup quando hai fatto vedere la sezione che adesso nella 9.3 si può ricercare tra i sui backup la domanda è la ricerca viene fatta sui log o direttamente all'interno dello zip o comunque del file di backup questo per una questione di velocità nella risposta allora la ricerca non viene fatta direttamente nello zip ma viene fatta nel catalogo quando io faccio il backup lui per ogni destinazione per ogni tipo di backup lui serve un catalogo sia locale che remoto quindi io mi consulto il mio database locale dentro backup assist eventualmente se non mi fate vedere ma c'è anche possibilità se io per esempio ho perso la console ripristino un backup assist e ho la mia destinazione con il backup io posso agganciare manualmente ma c'è una piccola console permette di agganciare un backup che ho fatto anche in passato con backup assist posso agganciare il catalogo e quindi fare di nuovo la ricerca aggiungerlo alla mia struttura di ricerca veloce di backup assist quindi c'è un catalogo quindi non fa una ricerca direttamente all'interno dello zip l'ha già fatta prima di fare lo zip quindi ha tutte le informazioni indicizzate ok grazie Luca allora abbiamo detto che l'upgrade protection è necessario per usare la BAM lui chiede la stessa cosa vale per la CMC cioè è necessario avere l'upgrade protection per poter utilizzare l'area portistica l'allarmistica il motivo è che il servizio è gratuito però ovviamente backup assist chiede la collaborazione di chi lo utilizza quindi deve minimo avere le licenze attive perché se il prodotto scade lui automaticamente lo sgancia dalla CMC o da un errore nella fase della console dice che non è coperta da xpiret cover un messaggio di questo tipo quindi cinque selezioni servono bene allora poi beh sono un po' di domande sono contento bene Franco quali sono i costi della versione desktop in relazione alla versione server 50% 30% eccetera boh Franco qua rispondo io allora diciamo il prezzo a memoria non ce l'ho anche perché varia a seconda del numero di installazioni che compri cioè se compri 5 che compri 20 diciamo che rispetto a quello che fa il software è molto molto vantaggioso ok se ti devo dare un ordine di grandezza rispetto alla server sicuramente 50% e forse anche più basso però appunto dipende poi dal taglio che ti interessa perché con 5 spendi di più che comprando ne 20 quindi lì poi è un ragionamento che devi fare anche se una cosa importante è che se voi ne comprate 20 non siete vincolati a usare tutti gli eventi per lo stesso cliente ok questa è una cosa molto interessante cioè voi potete decidere di comprarne 20 perché il prezzo è più vantaggioso e poi darne 4 a un cliente 4 a un altro 4 a un altro 4 a un altro un po' un modello MSP per intenderci Davide se su un portatile configuro un backup pianificato su una cartella di rete e in quel momento il pc è fuori dall'azienda il job viene riscidolato quando arrivo in sede o viene saltato allora il job fallisce lo scheduling riparte fate una notifica ovviamente che è fallito ma poi viene riscidolato pianificato il giorno successivo quindi non c'è non è che quando ritorna in ufficio riaccende la macchina riparte automaticamente il backup c'è la schedulazione successiva bene grazie si può vedere l'interfaccia della cmc chiede Alberto vuoi far vedere un secondo l'interfaccia aspetta che ti ripasso un attimo la parte vai allora ce l'ho aperta qui mi sono dimenticato di dimostrarla è fatto bene a chiederlo questa qui è la console della cmc vedete qua entro dentro aspetta mi è autentico questa è la home della cmc dove vedo qui i vari report gli ultimi backup eseguiti gli allarmi lo stato degli ultimi job di tutti i job un'unica tabella quindi nel caso il mio portatile è la macchina server non c'è la distinzione tra desktop e server qua tutte le installazioni sono viste come nome cliente perché quando io registro l'inserzione di backup assist faccio vedere anche questa parte che mi sono dimenticato io registro login e password metto nome e organizzazione quindi remoto monitoraggio specifico login e password nome e organizzazione metterò il nome del mio cliente e poi seleziono i job che voglio inserire e trasmettere alla console di monitoraggio quindi ogni job lo posso fare anche da qua gestione clicco c'è un fleghettino panoramica monitorare questo processo in cmc fleggo lui lo mette poi qua dentro nella lista dei job che lui trasmette alla cmc e alla fine il risultato è questo io per ogni installazione ho tutti i miei job posso entrare dentro management vedere le installazioni nell'ultima voce i job e vedere anche l'ultimo report che ho nel mio backup quindi se è verde vuol dire che è tutto a posto mi fa vedere il report è stato trasmesso alla cmc con una connessione ssl si è collegata alla server centrale in cloud e ha salvato solo la parte di reportistica quindi non c'è comunicazione di dati fondamentali del cliente qui non trasferisce nulla se non i report con il nome che gli ho dato io del cliente quindi tutto questo è un report in html un xml con tutte le informazioni che servono per capire se è backup dato buon fine quindi questa è la cmc altre cose si può mettere profilare cambiare il profilo mettere il logo è molto comodo poi il fatto che sia via web diciamo significa che in qualsiasi parte del mondo vi troviate potete vedere la reportistica e la mischia dei vostri clienti semplicemente aprendo una pagina web e facendo login e par ma la cosa fondamentale io posso anche fare un report complessivo in base al cliente creare diciamo un pdf che mi fa vedere la situazione dei miei backup le posso esportare in base qui c'è il calendario posso mettere i giorni in cui voglio far vedere il cliente e lui mi esporta un report non ho messo però il computer il job e mi genera un report adesso non ho qui non ho dati sufficienti però mi fa vedere un report con un grafico adesso qui un grafico è solo un puntino però mi dice quanti dati ho trasferito tutte le mie attività che ho eseguito il giorno tot il giorno vi fa vedere anche questa informazione che con il logo che ho messo io di ACAB con il nome della mia azienda lo posso dare al cliente come conferma che i miei backup sono andati a buon fine questa è una cosa che è molto utilizzata molti nostri rivenditori fanno business proprio perché fanno vedere al cliente fatturano in base a quello che vi mostra la CMC quindi è una cosa anche utile per le aziende che vogliono dimostrare che BackupAssist sta facendo il suo lavoro e così fatturare il servizio al cliente una cosa già che siamo qua che Luca chiede giustamente è possibile gestire l'invio delle mail l'invio mail dell'esito dei backup dei singoli clienti tramite la console CMC? allora la console manda soltanto informazione diciamo così io posso configurare se mi ritorniamo nella CMC nelle preference io posso specificare la mail ma posso mettere anche virgola i disegnatari della mail non c'è una sezione che specifica è una richiesta che abbiamo già fatto al supporto di BackupAssist non è possibile creare una struttura gerarchica che fa vedere che il cliente ha una notifica separata della CMC io potrei metterlo in copia conoscenza però eviterei di farlo e quindi diciamo lo manda all'MSP e poi all'MSP deve essere poi ma non è escluso che prima o poi verrà creata una gerarchia perché in previsione è un rinnovo di questa interfaccia di gestione nuova della CMC e alcune richieste sono già arrivate di questo tipo comunque il report arriva a me perché sono amministratore della CMC ed è un report globale diciamo eviterei di mettere il cliente nella gestione della console vediamo se si può se si può gestire no nel frattempo Fabio chiede comprando 20 licenze ottengo 20 codici differenti o un codice con 20 installazioni disponibili ah ah dunque credo un codice con 20 installazioni disponibili Andrea conferma conferma la chiave è una sola una sola diciamo è una chiave che è un'attivazione multiple quindi lato backup pass conta effettivamente quante licenze attivi e registra eventualmente il nome della macchina quindi questa verifica viene fatta dal lato comunque Fabio se sei diciamo interessato più alla parte cioè anche alla parte commerciale c'è un webinar di un paio di settimane fa sul nostro sito che diciamo fatto da Claudio che appunto tocca questi temi allora la licenza che è intestata e io ti direi che la licenza è intestata a te se diciamo tu decidi di usarla per n clienti diversi perché diciamo è una scelta tua poi all'interno potrai scriverti quali sono i tuoi clienti comunque se ti interessa puoi approfondire questi temi diciamo a parte che c'è sempre il nostro numero telefonico parli con qualche collega commerciale diciamo svanghi tutti questi dubbi o se no appunto c'è il webinar di qualche settimana fa sempre sul nostro sito Alberto è possibile schedulare il backup replica dei file alla chiusura del pc questa è una cosa che ci avevi chiesto via mail giusto se si come questa è una cosa che possiamo far vedere Andrea quello di generare diciamo il link e poi scriptare questa cosa capito la domanda allora ripeto una domanda per tutti intanto Alberto ci chiede è possibile schedulare il backup replica dei file alla chiusura del pc se si come l'idea che ha lui è di non far entrare il cliente dentro la console dba perché tanto se lo dimenticherà non lo farà mai quindi non eseguirà mai quindi l'idea è di schedulare diciamo un script fondamentalmente che lanci il backup del pc in autonomia senza doverlo fare al cliente dalla console ed è un modo molto diciamo semplice per farlo adesso Andrea ci fa vedere allora in ogni job di backup assist nella barra quindi entro clicco sul job qui in backup dentro il job posso eseguirlo eliminarlo ma anche aggiungi collegamento sul desktop questo lo faccio aspetta però qui sono dentro un utente un attimino mi collego su un'altra macchina perché su questa macchina non ho accesso allora ritorniamo qua se potremmo di fare un piccolo job veloce così protezione file sistema avanti facciamo uno schedolo in manuale backup manuale scelgo la catena locale ignoro anche qua il test la mail non la mandiamo test ho creato un job veloce ho fatto il backup manuale per motivo perché ovviamente se voglio fare un'attività di questo tipo potrei anche decidere di farla quando voglio io e quindi non devo usare lo schedo di backup assist uso direttamente una console una 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 gestione pianificata esterna fine adesso mi fa vedere il mio job entro dentro esporto il collegamento l'hai esportato qua esegui test ecco esatto questo qua me l'ha messo qua io apro proprietà e cosa che vedo qui vedo direttamente la sintassi che devo usare per lanciare questo comando semplicemente lanciare backup assist c'è l'eseguibile backup assist manual launcher e mettere come comando 1 che è 1 e identifica il primo job eseguito questa finestra questo qui potrei usare il collegamento per metterlo in pianificazione di windows ma posso fare anche utilizzare un altro strumento da script per lanciarlo il backup quindi quando fare shutdown lanciare questa condizione diciamo qui hai lo script quindi il comando usato per fare il backup poi a seconda dello strumento che vuoi usare o dentro uno schedule o ti fai un cmd o usi un rmm e poi diciamo schedulare l'operazione quindi la cosa che non funziona sicuramente se io uso dentro il job le funzionalità di script perché non mi fa dire ma c'è anche la possibilità di lanciare dei script prima e dopo il backup se devo fare una shutdown non posso usare questo comando perché rischio di interrompere brutalmente il backup appena lui cerca di uscire e fare shutdown della macchina è meglio evitare di fare comandi che possono bloccare il job invece esportandolo quando ho finito l'esito del job e da ok restituisce l'accesso restituisce prosegue lo script e si può fare direttamente la chiusura della macchina questa è la spiegazione quella più rapida che permette di fare un backup di questo del tipo che era richiesto quindi Davide dice quindi potrei usare lo stesso sistema per utente di prima che era fuori sede al momento dell'arrivo in sede si devi fare una spiegazione si esatto si potrei mettere direttamente negli script di avvio del sistema il backup poi è una scelta tua però da questo punto di vista si dunque Luca ci chiede se puoi far vedere la configurazione della retention delle immagini quindi diciamo della parte di rotazione e gestione dell'immagine allora la video la video la video la console faccio pinta di non avere il disco esterno allora lo scheduling prevede diverse tipologie di scheduling e quindi anche è la retention direttamente del backup assist in questo caso posso valutare in questa configurazione non posso dire cosa fare esattamente ogni giorno posso dire solo la struttura dello scheduling ovviamente su alcuni scheduling ci sarà una cartella diversa dove va a mettere il backup quindi la retention perché ho una cartella separata se io faccio il backup più volte al giorno anche è il sistema operativo stesso che fa crea uno snapshot e quindi uno storico del backup ed è lo spazio del supporto VSS che determina quante immagini di retention sono disponibili nel sistema quindi se io dedico ad esempio il 30% per lo spazio dello snapshot lui mi dedica tutto quello spazio per fare lo storico dei backup backup assist diciamo che ti permette di fare una rotazione dei backup la retention invece specifica delle immagini del disco la fa direttamente il sistema operativo e non c'è non posso dire tinimi una settimana di retention posso dire il massimo ottengo che su un disco da 100 gigabyte il 30% dello spazio è dedicato per fare la protezione e lo storico dei backup questa è la spiegazione ci sono sicuramente da valutare anche che è meglio avere una rotazione dei backup perché ci sono varie problematiche legate alla retention che in alcuni casi può essere rimossa direttamente dal sistema operativo e questo backup assist può impedirlo però non può dire qual è la coppia che deve cancellare il sistema operativo quindi io consiglio di avere una coppia replicata fare più job e quindi avete già anche lì uno storico dei backup direttamente usando job separati spero che sulla retention ci sono molti argomenti di discussione perché è una cosa che ci si dice direttamente al sistema operativo non backup assist perché supporta la rotazione dei backup con le disegnazioni su cartella diversa o su dischi rimovibili ma la retention è una parte diciamo distritta direttamente da Windows backup e dal supporto VSS quindi supporto del snapshot ogni disco ha nella configurazione del sistema operativo ha lo spazio dedicato tasto destro proprietà adesso qui siamo su Dextro no sui server c'è questa cosa qua comunque ci sono dei comandi anche da Prompt che fa vedere quante immagini sono presenti abbiamo fatto anche un articolo del blog giusto abbiamo fatto un articolo che parla come si fa vedere la lista dello storico quindi quanto di ogni volume quanto è presente di storico nei backup nel sistema del supporto VSS io eventualmente posso anche cancellare una coppia dello storico perché c'è ogni coppia ogni snapshot ha un ID che identifica l'ultimo backup quindi posso fare anche un'attività di manutenzione di questo tipo ma ora è tutto gestito esternamente a backup assist sì comunque Luca poi se vuoi approfondire diciamo andiamo avanti offline non c'è un problema va bene vedo che il flusso di domande si è arrestato e andiamo verso i saluti se non ci sono altre domande intanto grazie per le domande e grazie per la vostra partecipazione noi siamo sempre disponibili c'è anche la parte diciamo il nostro numero di telefono quindi per qualsiasi cosa scrivete a supporto etacca.it 6.7.it oppure il nostro numero di telefono grazie a tutti e grazie Andrea buona giornata buona giornata